Una giornata elettorale intensa e dedicata alla Sardegna, quella del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ha concluso gli impegni previsti oggi nel capoluogo sardo con un comizio in piazza del Carmine. Lavoro, ambiente e diritti, temi principali dell'iniziativa pubblica, che ha visto una grande mobilitazione del Partito Democratico dai diversi territori dell'isola. Questa mattina, sul lungomare Poetto a Cagliari, il segretario ha incontrato i rappresentanti della comunità LGBT al chiosco Fico d'India. Durante l'incontro sono state consegnate le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, che in sintesi chiede l'estensione dei diritti per le coppie omosessuali, i figli delle famiglie omogenitoriali e maggiore attenzione alle politiche trans. Successivamente, nella sede del PD Sardegna in Via Emilia, Enrico Letta ha illustrato alla stampa sarda i temi principali della campagna elettorale e il programma della lista Italia Democratica e Progressista, insieme ai candidati nei collegi plurinominali e uninominali della Sardegna e alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici che hanno costituito la lista. Sempre nella sede regionale PD, diversi sono stati gli incontri del segretario Dem, dal confronto con le forze economiche e i rappresentanti datoriali sulle principali vertenze che incidono sul tessuto economico e sociale sardo agli incontri con i sindacati confederali. Nei prossimi giorni sarà annunciato l'arrivo in Sardegna di altri esponenti del PD nazionale, mentre è già in corso la campagna dei circoli e dei volontari in tutti i territori della Sardegna.